Si può capire di essere incinta prima del ritardo delle mestruazioni? Allora, è molto difficile. Non ci sono sintomi tipici di questa primissima fase. Ad esempio, molte donne potrebbero associare la tensione mammaria a un'eventuale gravidanza in atto. In realtà, la tensione mammaria è tipica della seconda metà del ciclo mestruale, quindi della fase che precede la mestruazione. Quindi potrebbe essere la classica tensione mammaria prima dell'arrivo della mestruazione. Quello che voglio dire è di non affidarsi in questa prima fase a qualsiasi cambiamento che uno avverte nel proprio corpo e associarlo a un'eventuale gravidanza. Per avere la certezza bisogna aspettare il ritardo della mestruazione o comunque fare delle analisi del sangue che vadano a trovare l'ormone beta-HCG, che è proprio l'ormone che segnala che è presente l'embrione. Quindi bisogna affidarsi a degli esami poi specifici che vadano ad accertare lo stato di gravidanza. Alcune donne che sono particolarmente sensibili ai messaggi che provengono dal proprio corpo potrebbero percepire qualcosa di diverso prima del ritardo della mestruazione, quindi un qualcosa che segnala la gravidanza. In realtà queste sono più sensazioni istintive che poi verranno confermate da un esame specifico. Però ecco, non ci sono sintomi poi tipici che segnalano la gravidanza prima del ritardo della mestruazione.